Prima di iniziare ragazzi, per chi si fosse perso qualcosa, sì purtroppo oggi non esce il video teoria a causa di problemi tecnici, so benissimo di aver già rimandato il video tantissime volte, non dirò le stesse cose che ho detto all'interno del posting community che trovate in sovrimpressione nel video e che se volete approfondire la questione, se volete leggere qualcosa in più, vi invito ad andare a vedere nell'apposita sezione. Detto questo, il 2019 si conclude purtroppo senza video teoria, ma mi auguro che il 2020 si apra con un video teoria ancora migliore rispetto a quello che avevo registrato. Detto questo, io vi lascio al video, mi scuso ancora per non avervi portato la teoria, buona visione. Benvenuti ragazzi in questo video riassuntivo del 2019, per chi non mi seguisse, quindi per i nuovi iscritti, sì, anch'io ho questa tradizione sul canale, di solito lo faccio nella mia vecchia camaletta che ho ospitato i miei tre anni, i primi tre anni di YouTube. Quest'oggi purtroppo la situazione è quella che siamo con un green screen, ho sacrificato la tradizione alla qualità, sono una persona terribile. Detto questo, quest'oggi tiriamo un po' le somme di quello che è stato il 2019 e cosa a cui tengo di più, andremo a dare una proiezione di quello che sarà il 2020 sotto molti punti di vista, ma prima di parlare del 2020 occorre parlare necessariamente di questo 2019 che è stato un po' l'anno della rinascita per questo canale. Io nel video riassuntivo del 2018 dissi che YouTube in un certo senso per me è stata un'occasione sprecata, perché avrei potuto lavorare con quello che mi piaceva fare. Ora, ad oggi non è lontanamento un lavoro, neanche lontanamento un secondo lavoro, ma i numeri e le possibilità sono aumentate ed è aumentata soprattutto la possibilità che questo canale possa portarmi delle soddisfazioni, anche nell'ambito specifico che è YouTube e anche volendo in quello economico. Il trampolino di lancio, è inutile che ci giriamo attorno, è stato Pokémon Spade Scudo, che è stato l'evento del 2019 per quanto riguarda Pokémon, che ha permesso a tanti creators, me compreso, di affacciarsi ad un altro tipo di realtà di YouTube. Penso a Simone Pixel, che ha fatto un sacco di iscritti, tra l'altro lo saluto, ma anch'io nel mio piccolo non tanto gli iscritti, ma soprattutto i numeri, sono aumentati, è aumentata la costanza, questa è una cosa che nel 2020 ovviamente dovrà confermarsi, che non rimarranno sempre così i numeri e devo essere bravo io a mantenerli, ma di quello parliamo dopo. Ora, da quando è uscito Spade Scudo, da quando ho approcciato YouTube con una mentalità un po' diversa, sono anche cambiate un po' di cose sulla struttura del canale, che prima era un po' confusionario, meno chiaro, c'è stato un periodo all'inizio di questo 2019 dove ho iniziato a caricare molti contenuti disparati, l'uscita di Spade Scudo ha impostato meglio il canale, sono nati nuovi format, sono nati critical hit, sono esplose le teorie Pokémon come format che contraddistingue questo canale, in particolare quelle di Spade Scudo, un altro elemento molto positivo di questo 2019 sono le teorie e il percorso di teorie che abbiamo fatto, e più in generale c'è stata questa impostazione del canale, che adesso ha una sua struttura anche visiva, anche grafica, che è riconosciuta, è differente dagli altri creators, nessuno nella community Pokémon fa video nello stile in cui li faccio io, cioè con un green screen, cioè con l'editing che molto spesso propongo, quindi sono molto contento di questa cosa, sono felice di differenziarmi, sono felice di essermi emancipato sempre di più nel tempo, e non è solo questo in realtà, perché poi da agosto sono cambiate ulteriori cose, oltre al fatto che mi sono trasferito, quindi ho iniziato a dover star dietro anche una casa, infatti domani vado in vacanza e ho 10 piatti da lavare, finito sto video lo farò, il fatto di dovermi occupare di una casa di proprietà, di dover andare in comune, tante pare che sicuramente hanno dato molto fastidio, questo è stato un anno difficile ragazzi, è stato un anno difficile, ma non perché non mi sia piaciuto, ma perché ho avuto tante tante cose da fare, tanti cambiamenti, tanti stravolgimenti, tanti cambi di programma, da agosto sono entrato in una partner e questo mi ha spinto anche su youtube ad avere un approccio più critico nei miei confronti, a vedere meglio i miei errori, però non sempre è facile, perché non sempre magari io ragiono attentamente su quello che faccio, magari a volte sbaglio una miniatura, il video va male, insomma ci sono tante cose che devo migliorare, però devo dire il canale ha preso un'ottima, ottima piega, peraltro ho aperto anche il Twitch in questo 2019, in questo fine 2019, sta andando discretamente, non stiamo facendo grandi numeri, non sono ancora riuscito ad attivare le sub per il 2020, vedo di metterle, ma sono contento, mi piace streammare, mi piace l'atmosfera che si crea, siamo comunque attorno ai 500 follower, quindi qualcosina abbiamo combinato anche su quella piattaforma e basta, per il resto il 2019 è stato un pochino questo, è stato l'anno della rinascita, l'anno della rinascita, e se il 2019 è stato un po' l'anno della rinascita, un anno difficile, ma nel quale mi sono impegnato per dare una struttura al canale, il 2020 sarà invece l'anno ragazzi della conferma, perché adesso è già iniziato, ma adesso in particolare inizia quel periodo di secca per Pokémon, quel periodo in cui è uscito il videogioco e la gente non si caga più il videogioco, quel periodo che io da fan Pokémon spero duri tanto, perché spero che non pubblichino un gioco della saga principale per poterci lavorare sopra, ma che ovviamente da content creator mi tornerebbe utile. Però sì, qualora ci fosse l'anno sabbatico in Pokémon, ma anche se non ci fosse, perché comunque non so bene che titolo potrebbe venire fuori, cioè dopo aver fatto dei buoni numeri con Spada e Scudo, non eccellenti, non eccelsi, ma comunque buoni, adesso io e tanti altri creators sarà fondamentale anche per loro, questo è anche un appello volendo a tutti quelli che in un modo o nell'altro sono esplosi con Pokémon Spada e Scudo e vorrebbero mantenere il numero di visite, o comunque mantenere, costruirsi qualcosa su questa piattaforma, sappiate che adesso arriva il momento difficile, finora abbiamo navigato nell'oro, se così si può dire, finora abbiamo avuto vita facile, era facile fare grandi numeri con video semplici, io non li ho fatti perché sono un coglione, questo è un altro discorso, adesso bisogna mostrare al pubblico che hai guadagnato tramite l'ottava generazione, che tu vai al di là dell'ottava generazione, che sei degno di essere seguito a prescindere da Pokémon Spada e Pokémon Scudo e non sarà semplice per tutti, tanti canali ho visto morire così, tanti canali hanno iniziato a esplodere, poi lentamente si sono affievoliti perché magari nel tempo, non che non abbiano una personalità, ma magari non l'hanno coltivato abbastanza. Ecco, il 2020 sarà questo tipo di anno per me, l'anno in cui sicuramente avrò un calo, perché i cali sono fisiologici su YouTube, soprattutto quando porti Pokémon, e Pokémon non è un brand che ti permette di fare video ogni giorno su una novità, questo è in dubbio, soprattutto se ti limiti come me al videogioco. E per questo 2020, io ce li ho qui, ho pensato a molti format per fare ciò, ho pensato a tanti nuovi contenuti fatti appositamente per cercare di darmi un tono, per cercare di convincere le persone che si sono iscritte a rimanere, nonostante magari l'interesse per il brand in sé possa calare fisiologicamente, e ve li espongo, ve li espongo con molta calma. Adesso lì, 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 un attimo. Mi sono accorto negli ultimi tempi che per quanto i miei contenuti sul canale siano diversificati, molto spesso hanno circa la stessa struttura, cioè sono io che prendo dei dati e che ci costruisco sopra un ragionamento. Quindi è la parte razionale di me, è quella parte che costruisce comunque in un certo senso una teoria, anche un critical hit, se vogliamo, è una teoria, una teoria morale, una teoria psicologica della community, ma resta pur sempre una teoria sotto un certo punto di vista. Dal 2020 io voglio portare su questo canale anche un lato di me che molto spesso fatico a tirar fuori per miei limiti, che è il lato creativo. Lato creativo che significa viaggiare di fantasia, non per forza fare teoria, quindi per forza rimanere serrato nella logica, ma provare anche a fare qualcosa di diverso. E uno dei format che ho in mente da tanto tempo e che ho quasi inculato a The Bird Keeper Toby, che tra l'altro vi ho vinto a seguire perché è molto bravo, l'ho intitolato Let's Fix. Let's Fix che vuol dire sistemiamolo in inglese, e che è una serie volta a prendere alcuni elementi della lore Pokémon, alcuni Pokémon che sono stati trattati male e ce n'è a bizzeffe, e crearci attorno in maniera totalmente fantastica, quindi senza stare lì a prendere dati, a fare teorie, una lore, degli eventi nuovi, qualcosa che ci sarebbe potuto essere, ma che invece non c'è. Accanto a questo format ne ho un altro estremamente creativo in realtà, che sono i What If personali, questi ce li ho in mente da un sacco di tempo, e ho pensato, anche questa inculata più o meno a The Bird Keeper Toby, ma sempre con le mie varianti, sono serie simili che lui ha portato, che io ho visto e ho detto, cavolo questa qua portata così, come la dico io, migliorando questa idea ci sta. Io vi linko il canale in descrizione, così sono una persona corretta. What If nei quali ho pensato avesse senso trasporre la mia persona all'interno di un videogioco Pokémon? Cioè, il ragionamento è stato, se io fossi un personaggio di un videogioco Pokémon, come sarei? Perché è ovvio che cambierei in un certo senso. Quindi, se fossi un capo palestra, se ricoprissi il ruolo di capo palestra, quale sarebbe la mia caratterizzazione? Qual è la mia lore? Fossi un campione, idem, fossi un boss malvagio, questo probabilmente sarà il primo perché ce l'ho già in mente ed è bellissimo, come sarei? Come mi atteggerei? Quale sarebbe il mio obiettivo in Pokémon? E qualcosa di interessante, questo format ha una difficoltà sostanziale, che sono i miei limiti grafici, cioè io vorrei disegnarvi le cose, ma vi giuro sono impedito, ma davvero tanto impedito, e quindi avrò bisogno del supporto di qualcuno, che sarà Simone, Pixel forse, magari collaboreremo su questa cosa, non lo sappiamo ancora, perché il progetto va un po' a rilento, essendo che comunque spada e scudo ci hanno sottratto a tante altre cose, e i numeri hanno richiesto altri contenuti. E ho deciso, mi son detto, nel 2020 facciamo questa cosa qua. Poi ci sono altre tre cose che vorrei portare su questo canale, due sono delle serie abbastanza classiche, adesso ve le spiego, e l'altra è il competitivo, così posso copiare anche i pardini. Per chi mi segue dal Play Store Cene sa che io ho sempre giocato competitivo, a parte gli scherzi, e siccome con spada e scudo mi sono messo con una calma olimpica a bridare e a costruirmi un team per il competitivo, mi son detto, cavolo, siccome io per il 2020 voglio anche aumentare il numero di contenuti sul canale, proprio perché voglio farmi vedere perché non portare del competitivo, perché non portare un contenuto che sia più semplice, perché comunque un video competitivo lo registro, mezz'ora, poco editing, perché di fatto il pubblico competitivo vuole anche seguire ragionamenti, quindi insomma siamo in quell'ambito lì. La risposta alla domanda perché non portarlo è nessuna, quindi se riuscirò a gestirmi, quindi se riuscirò a bridare e a buildare il mio team, vedrete dei video competitivi, non so come andranno, non so quanto il mio pubblico si avvezzo al competitivo, supponendo di avere bene o male lo stesso target di Millennium, non dovrebbe andare così male, ma staremo a vedere anche in quell'ambito. Le altre due serie che vi citavo sono due serie particolari, una è una serie inculatissima, inculatissima a Graviar, che peraltro saluto, ma è inculata con una logica, perché io con l'ottava generazione mi sono chiesto ma qual è la generazione Pokémon che io preferisco a livello di Pokémon? Perché sì, attualmente l'ottava per me è la migliore, ma forse perché ci ragiono a Mente Calda e non ho presente gli altri Pokémon, quindi vorrei portarvi su questo canale una serie in cui valuto tutti i Pokémon, do un voto oggettivo, l'obiettivo è capire quale cazzo sia la mia opinione, perché io non ne ho idea, e io lo so, questa è una serie inculata, non è mia, però io nomino Graviar, link in descrizione anche a lui, spero non si offenda, però voglio fare questa cosa qui, ovviamente la farò con i miei metodi di giudizio, con il mio editing, e poi le tiers sono sempre esistite, quindi ci inculiamo tutti in realtà, è tipo un trenino di inculate, il trenino di capodanno però con i... insomma voglio portare questa cosa qua, ho già pensato ad alcune mie valutazioni e ci sarà da divertirsi, perché io sono abbastanza impopolare, lo sapete, l'ultima cosa che mi è venuta in mente, e ovviamente ragazzi sono cose che mi stanno venendo in mente adesso, ma poi nel 2020 chissà quante altre idee avrò, è quella di proporvi una sorta di Q&A, alla vecchia maniera, però interamente dedicato alla lore Pokémon, con video intitolati tipo rispondo a 20 domande sulla lore Pokémon, in cui voi, magari in community, magari su Instagram, non lo so ancora, mi fate delle domande effettive sulla lore Pokémon, magari delle curiosità che avete, o magari mi esponete brevemente, possibilmente una vostra teoria, e la commentiamo in un video in cui rispondo. Perché? Perché molte volte nelle mie teorie, questa cosa succede anche, è successa con l'ultima, su alcune cose devo glissare, perché magari non c'è tempo, perché magari non stanno bene in quel contesto lì, non sta bene citarle, però ci sarebbe molto da discutere su alcune chicchette, e quindi anche questa serie è una serie che vorrei portare. Per il resto, per questo 2020, quali sono i miei obiettivi? Su YouTube il mio obiettivo è proseguire così, aumentare la qualità tecnico-grafica, comprando una nuova telecamera, cercare sempre di mantenere il mio standard di cura dei video, e rimanere sui numeri che ho attualmente. Io non posso dirmi spaccare tutto, perché è ovvio, è ovvio, è scontato, no? Che io voglia spaccare tutto. Cosa voglio per il 2020 fa avere 120.000 iscritti? Magari sì, magari no. Il mio intento è quello di lottare per crescere il più possibile, senza alterare quello che è lo spirito del canale, quindi senza portarvi contenuti che sinceramente non rispecchiano il livello di qualità, anche concettuale, che voglio dare a questo canale. Quindi il mio obiettivo è rimanere costante, attualmente rimanere costante, sopravvivere a questo 2020, far vedere che anche senza una generazione Pokémon, nel mio canale è degno di essere seguito. E chissà che magari uno di questi cinque format in realtà poi non mi porti a fare un sacco di visualizzazioni, un sacco di iscritti, quelle sono cose che molto spesso è difficile prevedere, e quando cerchi di prevederle, di solito ci resti male, quindi non ci penso nemmeno. E magari, senza girarci troppo attorno, mi piacerebbe fare dei soldi con YouTube. Attualmente ne faccio, ma ne faccio pochi, ripeto, non è nemmeno lontanamente un secondo lavoro, cioè non ci pagherei internet. Oddio, forse... Bah, insomma, vorrei racimolare qualche spicciolo da questa attività, da questa attività, da Twitch, quindi vorrei mettere le sub, insomma, anche il lato economico vuole la sua parte, soprattutto quando vivi da solo, e i tuoi genitori, non tu, hanno fatto un investimento importante per permettertelo, e quindi poter farmi un centinaio di euro, la butto lì, facendo quello che mi piace, coltivando una mia passione, coltivando dei rapporti personali, sarebbe, per quanto mi riguarda, una gran cosa. Obiettivi personali, obiettivi non dello YouTuber, ma di Giovanni, proseguire con l'università, proseguire con gli studi, trovare più tempo per gli studi, perché quest'anno è stato davvero difficile, soprattutto questa, quest'ultima parte è stata veramente intensa, soprattutto di corsi universitari, e poi, portando avanti anche YouTube, non ho mai trovato il tempo di studiare, per conto mio, qualcosa, quindi è stato molto difficile, e come ultima cosa, parlando, rimanendo sulla scia del video, che ho caricato, martedì, 17 dicembre, voglio limare un po' quelli che sono i miei difetti carteriali, voglio cercare di essere più propositivo con le altre persone, vorrei portarvi delle collaborazioni su questo canale, e vorrei chiedere delle collaborazioni, ma in generale, questo è un progetto di vita, fra virgolette, più ampio, perché vorrei davvero, essere più propositivo con le persone, né essere più propositivo con i miei amici, e in generale, limare tutti quelli che sono i miei difetti, che credo sia il proposito più sensato da farsi per un 2020, perché in realtà, quello che ti dovresti proporre, è di cambiare te stesso, tu, ti devi proporre una cosa, ma devi saperla realizzare, se ti proponi di andare in palestra, e poi il tuo cervello dice di no, non basta obbligarti, tu devi proporti di cambiare mentalità, ed è quello che un po' voglio fare anch'io, no, aspettate, mi sono dimenticato una cosa, perché Gio97, Giofei, ormai c'è dieci nomi quell'uomo, ma consigliato una cosa molto figa, e che farò alla fine video, così almeno scoprirò nei commenti, chi sono i veri fan, voglio fare una top e una flop dei miei video, su questo canale nel 2019, però siccome non ho tempo e ho sonno, farò una top one e una flop one di video, partiamo dalla flop, io la flop la so benissimo, è il video in cui sono andato, a prendere tipo zero la torrellotta, non che sia un video brutto, però non è un video che rifarei, non è un video che farei in quel modo, perché non è stato un mio video, e purtroppo un esperimento che ho voluto fare, finito l'esperimento, mi sono accorto benissimo, che quel contenuto non mi rispecchiasse, però avendo perso il C del tempo, l'ho caricato, tra l'altro poi è andato anche abbastanza bene nel tempo, quello penso sia il video peggiore del 2019, perché è proprio un video che non mi rispecchia, è un video fuori da, dalla struttura del canale, invece il top video, anche per una questione di quanto stracazzo di tempo, ci ho speso sopra, ci sarebbero tantissime honorable mention da fare, ma l'ultima teoria, non l'ultima questa, l'ultima prima di spada e scudo, quello è stato un video bellissimo, non c'è un errore di editing, la teoria regge, poi si è confermata, ho sparato un po' di cazzate, però poi dopo le sistemeremo nel tempo, e soprattutto anche per una questione di video lunghissimo, progetto infinito, copione cataclismatico, sono cose che premio, quindi quella è la mia top, voi nei commenti scrivetemi per voi, qual è stato il video migliore di questo canale, e qual è stato il video peggiore, non fate le merde, e non dite nessuno perché sei il migliore, voglio sapere in questo periodo, qual è stato il mio video che vi è piaciuto di meno, che vi ha lasciato più indispettiti, cazzo non fate i paraculo. Buon 2020!